dai ottimo ottimo controlla, controlla, fai pressione, tieni giù il bacino ottimo buono, buono buono, cintura di sicurezza andrei, metti una cintura metti una cintura di sicurezza buono, buono, buono buono lavora sui canci lavora sui canci buono, buono, buono André buono, buono 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 master runaway, black needle, oliver tennis, e lukas Thomas, buono 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 metti subito la cintura vai ok, vai a passare attento, 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 attento bravo quello, vai a passare, vai a passare così abbraccia la testa ma stai cintura ma stai cintura di linea vieni 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 fai pressione sempre pressione oh buono buono sgrima non lo fanno da sotto André non lo fanno da sotto buono 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 vai giù col bacino giù col bacino giù col bacino vienilo vienilo là dai André pressione 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 giù buono 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 sempre pressione mettine cintura non lo fanno da sotto André non lo fanno da sotto buono 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 stai lì bravo tienilo là tienilo là prima la cintura cazzo dai che mancherà poco perché sono 4 minuti qua vai andrei ancora un minuto vai a sgrimare vai a sgrimare si vai a sgrimare buono 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 schiacciagli su il bacino sgrimare 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 vai André 30 secondi 30 secondi mano sul bacino bravo mano sul bacino Vieni lì, bravo, bravo, fai sproll, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì.